Tentano di rubare soldi al distributore Totalerg sulla statale adriatica a Gimarra di Fano, ma qualcosa va storto e il colpo fallisce. È accaduto intorno alla mezzanotte, tra venerdì e sabato, ad agire una banda di cinque persone, tutte rumene. Con un piede di porco hanno aperto la colonina self-service e poi calato fin sottoterra la spatola biadesiva per far attaccare le banconote all'estremità. Ma il piano però alla fine è fallito. L'allarme ha fatto arrivare sul posto in pochissimi istanti una volante del commissariato di Fano, che dopo un breve inseguimento in auto è riuscita a bloccare i banditi. Al termine dell'operazione tutte e cinque le persone sono state arrestate. Questa mattina si è svolto il processo per direttissima nel quale il giudice ha convalidato gli arresti, due in carcere, mentre gli altri tre con divieto di ritorno in provincia di Pesaro Urbino. Il processo riprenderà il prossimo maggio. I dettagli di questa brillante operazione di polizia verranno resi noti la prossima settimana nel corso di una conferenza stampa.